Svolta nel caso Regeni, il generale Tariq e altri 3007 egiziani sono stati rinviati a giudizio per aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano Giulio Regeni. Il ragazzo nato è cresciuto a Fiumicello e in seguito studente a Trieste dove frequentò i primi due anni di liceo classico al Petrarca. La speranza è che si tratti di un passo decisivo nella ricerca della verità sulla sua morte. Dopo anni di depistaggi, intoppi causati dall'autorità egiziane e ricostruzioni dei fatti più o meno fantasiose, oggi il giudice per le udienze preliminari del Foro di Roma, Pierluigi Balestrieri, ha accolto la richiesta di rinvia a giudizio presentata dal sostituto procuratore Sergio Colaiocco. Il processo scatterà per quattro uomini dei servizi indicati come responsabili della fine di Regeni. Il generale egiziano Sabir Tariq, i colonnelli Usham Elmi, Atar Kamel e Magdi Sharif. Secondo le accuse, i quattro indagati insieme ad altre persone mai identificate hanno osservato e controllato Giulio Regeni direttamente e indirettamente dall'autunno del 2015 alla sera del 25 gennaio 2016. Il ricercatore italiano è stato bloccato all'interno della metropolitana del Cairo, è stato condotto prima in un commissariato, poi in un altro edificio. Quindi le torture atroci che hanno causato a Regeni un'insufficienza a respiratori acuta che l'ha portato al decesso. Dopo anni di attesa, ora verrà finalmente il momento del processo per gli aguzzini di Giulio.